ragazzi io sono nuovo in trooper e qui c'è anche un ragazzo strano che ci delle volte verrà qui e ci dirà dei suggerimenti su slither io faremo il gioco che comincia su slither io però se mettete mi piace vi faccio anche vedere dei video divertenti parlaci un po tu edo che che consiglio ci dai ok questo ragazzo qui è un matto che di solito fa che come vi ha già detto nuovo youtuber questo che uno dei suoi primi video farà video su slither io su su playstation anche su gta ora sto facendo un video su slither io e buona fortuna va bene ora sono morto perché me l'ho sbagliato vi piace la mia nuova la mia skin dopo guardiamo se ci sono altri vai pubbiamolo tutto pubbiamolo si è tutto nostro raga per me è meglio quella nonno online però decidete voi se mettete mi piace faccio quella ma con la online fa tutte bug assurdi vediamo se c'è una nuova skin raga non c'è mamma mia questo rumore vabbè raga per me slither io è impossibile raga abbiamo ripeto siamo un po cresciuti oh oh guarda che abbiamo cerchiato cavolo volevi ma ci ha ucciso cavoletti bagnarola voi conoscete favij vabbè quello lì si chiama lorenzo giusto eh anch'io mi chiamo lorenzo e li voglio mangiare lano capito vabbè aspettiamo un po guardiamo se abbiamo usato tutta l'energia cavoletti ora cerchiamo di uccidere questo qui rosso vieni qui il rosso del cappero ecco muore si 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 sono tutte pubbiamie tutto io 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 che non vedete che cerchiamo uno ci state siamo a 1025 cavolo si credo che ce la facciamo da cerchiarlo questo qui no no non questo questo ti mangio mangio la banana che non c'hai la banana che non c'hai cerchiamo questo viola se non se ne va ma è scemo ma è scemo forte io ti voglio tutta l'energia tu la sprechi ma sei scemo ma sei scemo forte ma è scemo forte ci ha ucciso raga cambiamo gioco mamma mia mi sto rompendo le balle visto che siete stati bravi e ci avete messo almeno un mi piace mi faccio vedere dei video divertenti ahahah che faccia buffa proviamo questo scusse me would you mind if I ask you three honest questions please uh sure um uh do you think I'm attractive uh I guess so I mean you're alright oh my right wow do you have a boyfriend no why why um this is kind of awkward but uh what would you excuse not to kiss me right now what would it be what che succede una persona a caso mamma mia capperetti andiamoci a dare questo video brutto schifezze strano eh what the fuck non voglio sapere nulla è pubblicità mamma mia chi è guardiamo qualche video strano boh questo qui ho sentito brutto rumore a mio vicino eh che ho sentito brutto è noioso raga guardiamo questo strano cosa vabbè cerchiamone un altro tanto durava poco il video finisce qui con questa bella forma ciao